Greco abbraccia il grande centro. L'ultimo colpo di coda di un'amministrazione da tempo ormai in difficoltà potrebbe essere quello di agganciarsi alla balena bianca, trasformando definitivamente il governo arcobaleno di stampo civico, già abbondantemente scolorito in questi anni di amministrazione cittadina, in una giunta a traino ultracentrista. Tutto dovrebbe sbloccarsi nel giro di questa settimana, ma i segnali ci sarebbero già tutti. Greco starebbe solo aspettando l'addio definitivo di Forza Italia, che comporterebbe le dimissioni dell'assessore Azzurro Nadegnofo, e la perdita del sostegno dei due consiglieri forzisti in aula. Un prezzo che Greco adesso sarebbe disposto a pagare, pur di compattare quei pochi sostenitori che gli restano, e cercare di traghettare la sua amministrazione oltre gli scogli della mozione di sfiducia, che dopo la fulminazione sulla via di Damasco dalle tre consigliere di opposizione, giudice Farrugge Acia, sembrava essersi arenata del tutto. Con l'addio di Forza Italia, invece, le due firme mancanti per il protocollo definitivo della mozione potrebbero però arrivare, costringendo di fatto il presidente del Consiglio, Salvatore Sammito, a calendarizzare il documento e a spostare la discussione in aula, dove l'esito sarebbe tutt'altro che scontato. Con la spada di Damocle del bilancio da provare ancora pendente, dunque, il sindaco starebbe cercando di serrare le fila, per crearsi una maggioranza minima che lo aiuti a traghettare fino a fine mandato. Il soccorso, dunque, sarebbe arrivando proprio dal centro alla nuova DC, già ingiunta con l'assessore Giuseppe Licate all'MPA presente con l'assessore Ivaliardi, sarebbe per raggiungersi il nuovo ingresso dell'UDC, che con il ritorno del figlio al prodigo Salvatore Incardona potrebbe tornare a occupare una delle poltrone vacanti dopo l'uscita dell'ex assessore centrista Danilo Giordano. Al momento le caselle da riempire sarebbero tre, quelle pesantissime di bilancio ambiente e quella non meno importante dello sport, turismo e spettacolo, a cui andrebbero ad aggiungersi quelle dell'istruzione e dei servizi sociali, pronte ad essere lasciate libere dall'addio dell'agnoffo. Cinque poltrone utili da dividere, tre fedelissimi dunque, con una spartizione che di fatto accontenterebbe tutti, con un secondo assessorato a nuova DC all'MPA, uno ai civici sopravvissuti di una buona idea, uno ai fedelissimi di un'altra Gela e l'ultimo rimasto a redivivo UDC. In questo modo Greco si blinderebbe una maggioranza minima anche in Consiglio che gli dovrebbe consentire di galleggiare fino a fine mandato. Pare, tra l'altro, che nella nuova compagine centrista ci sia già un tacito accordo secondo il quale Greco non si candiderà alla fine del suo mandato, lasciando via libera chi, proprio all'interno della Giunta, avrebbe già espresso velleità per le prossime amministrative. Sulla solidità di questo tacito accordo, però, ci sono molti dubbi, legati soprattutto alla tenuta della maggioranza sulla votazione del bilancio. Da più parte tra gli alleati si starebbero esercitando pressioni sul sindaco affinché venga nominato un esperto esterno che possa garantire correttivi al documento finanziario che blindino i consiglieri che decideranno di votarlo. Senza queste certezze, il patto di ferrocentrista potrebbe naufragare prima ancora di arrivare in porto. Sfiducia permettendo, naturalmente, perché anche quello della fine anticipata dell'esperienza Greco è un capitolo tutt'altro che chiuso. Ma questo il sindaco e i suoi lo sanno benissimo.